Allora Camil, obiettivo raggiunto, oggi era importante vincere, una partita secca per raggiungere la Final Four di Bologna. Vittoria netta 3-0, qualche difficoltà nel secondo set, ma buona prestazione di Perugia. Sì, abbiamo dovuto vincere, quello abbiamo fatto. Sono contento che era 3-0 per noi, perché come hai detto ci sono stati momenti dove non siamo stati così bravi, soprattutto tanti errori in battuta. Credo che quello faceva la nostra vita un po' più difficile, però alla fine abbiamo dimostrato un livello più alto che loro. Senti, forse mancanza un po' di ritmo di gioco, il Covid, non siete mai riusciti a allenarvi con continuità. Questo forse è un po' pesato sotto questo aspetto, però poi era importante, oggi più che mai portare a casa il risultato. Sì, però come ho già detto, il campionato e anche la Coppa è una strada lunga con tante curve. Qualche volta arriva che la squadra forse non è in forma più alta che c'è, però anche quelle partite lì devi dimostrare un livello. Senti, un'ultima cosa, non parliamo della Coppa Italia perché ci manca un mese abbondante, parliamo un minuto di domenica, arriva Piacenza, una squadra in grande forma, partita difficile, complicata, importante per continuare la nostra corsa in campionato. Sì, credo che hanno una moralità molto molto alta adesso dopo quella partita che hanno vinto contro Modena e a noi adesso di presentare che comunque per vincere contro di noi è diverso che contro Modena. Grazie.